Io parlerei di loro, perché è incredibile questa cosa che fanno, è incredibile. Io stavo lì seduto nei primi pezzi e ogni volta che li sento mi sciolgo, perché è oggi, mi è venuta in mente proprio questa immagine, sembra che loro, che attraverso di loro è la musica stessa che grida quant'è bella, quant'è importante. Io non conosco nessun'altra realtà in Italia, e non solo, che ha prodotto una cosa così emozionante, così rispettosa e così piena di amore per la musica. Per cui grazie a Michele, grazie a tutti loro, grazie a nome anche della musica. Grazie. Grazie.